E con il cielo e una coperta ricamata eccoci insieme, buongiorno al nostro pubblico, buongiorno a Matteo Bensi! Ciao a tutti ragazzi! Ciao Claudio, che piacere essere qui! Oh, ce l'abbiamo fatta! Finalmente ce l'abbiamo fatta! No, sono troppo contento di essere qui, veramente. Non potevo saltare questo appuntamento perché la volta precedente ho avuto un imprevisto e stavolta invece ce l'abbiamo fatta. Anche se abbiamo dormito poco, ho detto non mi interessa, devo andare. Ed ero talmente, ho detto ma ci sarà, non ci sarà, ero talmente preso. No, non si fidava ragazzi, ve lo dico. Mi ha chiamato, ha fatto un po' finta di niente, dice ma tu dove sei? Dove sei? No, tanto per capire, non dirmi che sei a casa perché... No, non mi permetterei mai, ma poi devo dirti la verità, è sempre un'emozione essere qui ma soprattutto vedere la professionalità che avete, vedere la struttura che avete, insomma non si vede tutti i giorni. Per noi del mondo del ballo una realtà come questa è una bella fortuna e ci tengo a dirlo in apertura, insomma. Era da un po' che mancavi, eh? Sì, di persona era circa un annetto, sì assolutamente. Mamma mia, mamma mia. Come stai? Sto bene, sono a dieta e quindi soffro terribilmente. A chi me lo dice? Ce lo dice a me? No. Ma ce la metto tutta, insomma, però infatti vedi mi vesto di nero perché il nero è stile. Ah, è nero, è nero. Sì, sì. Ma che stai bene, ma che stai bene, dai. Sono molto contento e abbiamo, guarda, devo dire la verità, dopo quello che abbiamo vissuto, i momenti di stop, adesso vedere il ritorno alla normalità, il lavoro, l'orchestra, la gente che balla, insomma, è una cosa che ogni giorno aumenta sempre di più il piacere di fare il nostro mestiere. E mancava, vero Matteo? Mancava tantissimo perché poi per noi è proprio la nostra vita, il contatto col pubblico, i fans che vogliono la fotografia. Le prime volte quando riprendevi ti guardavano, facciamo la foto, stavano lontani, adesso ti abbracciano. Cioè, è così, insomma, il nostro mondo è bello perché è popolare, perché è così, insomma, secondo me. Allora, intanto ricordo ovviamente al nostro pubblico, se desiderate allora cogliere l'occasione per salutare. Io vi aspetto, ragazzi, mi raccomando. Per salutare il nostro ospite, vi ricordo la messaggistica di WhatsApp, solo messaggi, non audio, il 393-7366-888 e andremo a leggere poi tra poco già i primi messaggi. Abbiamo aperto con il cielo una coperta ricamata che, insomma, sei particolarmente legato a questo brano. Assolutamente, è in assoluto la canzone, se si può usare questo termine, di più successo per il momento della mia orchestra e nessuno di noi si aspettava un successo così. Devo dire, io sai che sono un amante dei brani popolari, le canzoni di una volta, quindi questo è un brano che abbiamo avuto l'idea di riproporre e tirarlo fuori dal repertorio popolare. Lo abbiamo ovviamente modificato, ne abbiamo aggiunto una parte, però devo dire che un successo così non ce l'aspettavamo. Quindi sei partito proprio col proiettile più grosso. Sapevo, insomma. Poi qui, in questa occasione, insieme con un coro. Sì, un coro delle quattro valli. Mamma mia, insomma, ha dato ancora più, ha dato ancora più enfasi. Tra l'altro, il video che avete visto è stato girato a Bobbio, che è una città d'arte della nostra provincia di Piacenza, subito dopo, quella serata era subito dopo l'evento del Bobbio Film Festival, dove c'era Isabella Ferrari, Marco Bellocchio. Quindi io ho visto, nella locandina, ho visto, non so, Marco Bellocchio, Raul Bova, Matteo Benzio. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, te lo giuro. Vabbè, allora, Matteo, intanto andiamo subito con un altro video. Il tempo corre veloce, ma dobbiamo ricordare tante belle cose. Presenta questo nel tempo, vai. Questa è una canzone alla quale sono molto legato, è un po' una scommessa, perché è un brano che parla d'amore, tanti brani parlano d'amore. Questo in particolar modo è calato nel fatto che quando lei dice basta, e dice io non ti voglio più, io rimango talmente innamorato di te che anche se stai bene via da me sei lontana, io sono contento lo stesso, pur che tu sia felice. Era un periodo un po' strano. Sai che noi quando scriviamo siamo un po' presi. No, non riguarda me, io amore ti amo. Saluto mia moglie e la mia bambina. E la tua bambina? Si è legato a lui, proprio posta tutto ciò che è possibile, giustamente. Con la sua bambina. Però devo dire, sì, ecco, questo è un brano molto particolare, insomma. Ascoltatelo perché è particolare. Bene, eccolo qua. Guarda, guarda i messaggi che arrivano per te, andremo a leggerli tra poco. Abbiamo Matteo qua con noi, sono felicissimo. Ce l'ha fatta, ha dormito veramente poco. Che caldo c'è qua dentro, Claudio, io non so come fai. Arriva da una serata, poi stasera ne ha un'altra, però ho detto, no, no, devo arrivare. Eccolo qua, dai, Matteo Bensi nel tempo. Mi sono tolto la giacca, non offendetevi, eh. Mi sono tolto la giacca perché qua dentro, ragazzi, è una tempesta. Però ci scaldiamo. Ma anche, sei tu che porti veramente calore, 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 calore. Un po' io, un po' il termos. No, volevo dire, ma vedo una ballanga di... Cioè, mi sembra ancora impossibile di averti qua. Ma figurati. Ma ci tenevo, dai, ci tenevo. No, devo dire una cosa. Il legame che c'è fra me e te, devo dire, è veramente un'amicizia particolare. Io ho visto commuovere questo signore quando sono arrivato al Teatro da Ponte a Bassano del Grappa. Tra l'altro per la prima volta nell'evento meraviglioso che fa perché organizza un evento bellissimo. dove sarò ancora anche quest'anno con molta, molta, molta gioia, molta felicità. E quando mi ha visto entrare si è commosso. Quindi quello è stato uno dei gesti più belli che potessi fare, veramente. Poi mi hai fatto commuovere anche a me, quindi alla fine è vero. È così o no? È vero, è vero, è vero. Perché ero titubante. Avevo un telefono a Matteo, lo chiamo, non lo chiamo. A meno che non ci sia un problema, una parola, una parola. Però ho detto, ma vedrai, no, se viene. No, no, ma quando dovevo invitarti per il Galà, ho detto, ma viene. E invece poi quando ci siamo sentiti che ti ho raccontato, eccetera. Ma io conoscevo il tuo Galà, quindi non ho avuto difficoltà a dirti di sì. E poi io credo che... Però quando sei arrivato era di una puntualità incredibile. Beh, ma ci mancherebbe. Mi sono, sì, è vero. Guarda, io sento le mie cose. Divi, prego. No, ma si vede. E infatti anche quelli che lavorano con te, le persone che stanno vicino a te, questa cosa la sentono. Secondo me, fare il nostro mestiere... Poi il fatto di darlo, presentarlo in un teatro. Io ho avuto la fortuna, il piacere di lavorare, per esempio, con una delle compagnie teatrali più importanti d'Italia. Posso dire che è quella dei Legnianesi. Mamma mia, assolutamente. Dopo ti spiego anche del viaggio che faremo. Sì, certo, certo. E non chiedermi come ho fatto, perché non lo so neanche io. Nel senso, mi hanno sentito, gli sono piaciuto. Infatti, questo me ne dite. Ti sei stupito ancora? Ti stavi chiedendo? Sì, ma sì, ma perché loro sono veramente... Cioè, è una cosa fuori dal normale. E ti dico, lavorare in teatro è bellissimo. Noi siamo orchestre che devono far ballare, siamo nate per il ballo. E guai a chi tocca il ballo per le nostre orchestre. Però ogni tanto, credo che un posizionamento in teatro alimenti l'interesse verso il nostro settore, anche a persone che magari... Un locale da ballo non lo frequenta. È tutta un'atmosfera particolare. Assolutamente sì, assolutamente. Poi quello è molto bello. Allora, caro Matteo, andiamo subito a leggere. Perché scremiamo un po', perché... Allora, ciao Matteo, sei bravissimo. Speriamo di vederci ancora a Bassano o Ghirano. Ah no, Ghirano, Ghirano di Prata. Torniamo Ghirano, dall'amico Stefano. Saluto tutti gli amici di una bellissima festa. Ghirano dov'è? Provincia di dove? Pordenone. Ah, ok, ok. Provincia di Pordenone, una festa... Dunque, a ottobre Ghirano. Adesso, Stefano, la data precisa non me la ricordo, perché è una costante di chi fa il nostro mestiere, e non ricordarsi la data. Ok, però a ottobre torneremo e sono alcuni anni che raggiungiamo questa festa, fra l'altro bellissima, ma poi l'accoglienza, l'accoglienza... Devo dire la verità, noi siamo emigliani e quindi siamo aperti, si vede, io faccio parlare anche i sassi, però l'accoglienza che troviamo in Veneto, Friuli, questa zona qui è veramente incredibile, quindi grazie sia da parte del pubblico che delle gestioni, veramente. Allora, e ti saluto allora a Ghirano, ok, ciao da Primo, e Maria Assunta di Cimadolmo. Buongiorno, grazie. Allora, buongiorno Claudio, anche oggi un grande artista, Matteo, bravissimo e alla buona, come piace a noi. Un grande saluto a lui, da Roby e gli amici del Veneto, Roberto da Fiesso d'Artico. Ciao Roberto, ciao a tutti gli amici, grazie ragazzi, veramente. Un abbraccio grande a Matteo, sperando di vederci presto, Federica di Savona. grande a Matteo qui. Questa è un'amica particolare, una famiglia particolare, e mando un abbraccio grande a Matteo. E beh, che ci stanno seguendo in streaming, allora ci fa veramente piacere. Sì, sì, sì. Allora, ciao Claudio e Matteo, sono Enrica di Belluno, mi farebbe piacere Occhi Neri di Matteo. Ma fammi vedere quei tuoi occhi neri. è una citazione. No, no, ma infatti, cioè, perché metti che non è in scaletta, già, ma non è in scaletta, non la fa. No, invece, mi hai anticipato perché ti stavo chiedendo, me la fai un pezzettino a cappella? Ecco. Ma forse poi ce l'abbiamo, anche credo Occhi Neri. Sì, ce l'avrei sicuro, figura. Allora, vediamo un po'. Buona giornata a Claudio. Ah, che bella. Hai visto? Buona giornata a Claudio e a Matteo, che è ospite fantastico. Grazie. Questa voce è bellissima. Sapevo che era lì in studio di persona, sarei venuto oggi per un saluto personale. Matteo, sei un grandissimo artista. Grazie. Iole e San Martino di Loperi. Grazie a te, Iole. Buona giornata. Grazie, Iole, davvero. Grazie di cuore. Vai, vai. Se vuoi leggere, prego. Complimenti, Matteo. Sei tornato in forma. Bravo. Oh, in che senso? Perché ero grasso? No. Perché non sei messo. Vada, 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 vada. Ha ragione lei, ha ragione. Se è possibile, mi fai ascoltare. Vieni Piccina, grazie, il titolo del nostro ultimo disco che è un duetto per la prima volta con una bravissima cantante che è Marianna Lanteri. Grazie. Ciao Claudio, saluti a te e a tutti. Oppure Mille Ricordi. Allora, Mille Ricordi è un waltzer vecchissimo dell'orchestra Bagutti che tra l'altro è stato uno dei primi brani che ho cantato. Bellissimo. Poi teniamo Vieni Piccina. Guarda, facciamo tutto in diretta. Ragazzi, ma l'archivio qui è anche... Però a me spiace, dai, farmi vedere in maglietta per il nostro bug. Mi rimetto la giacca, dai. Mi assento in diretta, dai. Oh signor. Allora, la tolgo nella pubblicità, dai, non posso stare in maglietta. Mi sono visto, poi dopo dicono che sono ingrassato. Ti richiede, allora... Vieni Piccina. Vieni Piccina. Vuoi vedere se ce l'hai. Figurati se non ce l'hai, è l'ultimo disco. Sì, ma aspetta però... E la prepariamo. Ok, poi... Altrimenti Mille Ricordi, dai. Aspetta che però, allora... Dunque, sei sicuro? Il titolo è proprio... Vieni Piccina. Vieni Piccina. Però vedi, è tutto in diretta. Adesso qui non la trovo, dovremo cercare un attimo con calma. Sì, ma ce l'hai sicuramente, figurati. Allora, poi... Occhi neri. Guarda quanti messaggi. Ragazzi, questa è la soddisfazione di chi fa il nostro messaggio. Ah sì, occhi neri. Comunque è un caldo, ragazzi, scusatemi. No, non voglio crearti. Non ce la faccio. Oggi non ce la faccio. Porta pazienza. Ragazzi, portate pazienza qua dentro. È un forno. Ti saluta Anna... Allora, che richiedeva, eh? Anna di Gorizia. Ciao Anna, grazie di cuore. Un chiaro saluto al bravissimo Matteo, dagli amici Friulani, Maria Pia e Luigi, con umandi a tutti. Ciao ragazzi! Allora, buon mercoledì Claudio, il tuo bravissimo ospite Matteo. Sono Mariangela Di Sale, Alessandria. Posso chiedere e collaborare con i legnanesi che esperienza ti ha dato? Grazie, un grosso abbraccio. Guarda, qui dovremmo fare una riflessione importante, insomma. Facciamo questo saluto e poi ti rispondo. Ok, vai vai e leggi. Buon pomeriggio Claudio. Matteo Bensi, bravissimo cantante. Grazie. Ho sentito la mia canzone preferita nel tempo. Bellissimo testo. Gabriele, Gabriele di Paese. Grazie Gabriele. Questo è il testo e, diciamo, dal brano Sogno di un clochard in avanti. Ok. Io ho la fortuna di averci visto lungo con quello che è il mio miglior amico, il ragazzo con il quale sono cresciuto da sempre, Massimo Cantaldo, che ha una testa particolare e avevo capito che poteva essere una cosa interessante inserirlo nella collaborazione, nella realizzazione dei brani e devo dire che dal sogno di un clochard in avanti i testi di tutti i brani miei sono i suoi e quindi questo gli giro questa dedica. Per quanto riguarda... Però, però sei maglietta senza giacca. Andiamo a... Vieni qua, poi mi tolgo da... Quando rientro mi metto la... No, rimango in camicia, allora camicia bianca e maglietta nera, bianco e nero, Juve, siamo a posto. Ma questo è un altro discorso. Allora stavi dicendo, dai. Per quanto riguarda quello che mi ha lasciato l'esperienza con i legnanesi, intanto un'esperienza che non è finita perché continua con due meravigliosi viaggi. E ne parleremo poi tra poco perché abbiamo i tempi. Esatto. Devo dire che è stata in assoluto forse la più importante collaborazione, anche senza il forse, la più importante collaborazione professionale che ho avuto da quando ho aperto la mia orchestra. Io sono abbastanza... Cioè io non dormo mai, quindi cerco di seguire tutte le vie. Ho lavorato, ho fatto un concerto per il premio Nobel per la pace. Ah sì, esatto. Ho cantato a Palazzo Marino a Milano, ho cantato per un premio Oscar Anthony La Molinara. Pensa al premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2 mi ha detto, quando ti ho sentito la fisarmonica mi hai ricordato mio papà perché aveva origini... Quindi alla fine il mondo è molto piccolo. Però le emozioni dei legnanesi è una cosa a parte. Io credo che noi... Allora, se siamo lì è perché gli siamo piaciuti e quindi sicuramente avremo anche noi la nostra parte di merito che non mi voglio dare assolutamente in questa sede. Però è sicuramente una delle più importanti soddisfazioni prima di tutto, ma io sto facendo la spugna con loro perché qui stiamo parlando di tre fra i più importanti attori del teatro italiano e quindi io vedo a fianco a me una persona che fa un mestiere di serie A che io non ho mai fatto e che quindi mi trasmette qualcosa e devo dire che quello che ho visto con loro, che sto cercando di imparare con loro, viene buono anche per le nostre serate. La comunicazione. Io nella nostra prima volta mi hanno fatto provare dieci volte l'ingresso. Come usare le mani. Cioè il teatro ha delle regole particolari, capito? E io sono fortunatissimo... Tu arrivando da un'altra situazione bisognavo... Io devo dire che sono stato fortunato anche fin da subito perché anche nell'orchestra Bagutti, sia Franco che Gianmarco, sono attentissimi a questi particolari. Quindi già ero avanti, ho fatto degli eventi con l'orchestra Bagutti che mi hanno aiutato, hai capito? Però diciamo che quando poi ti confronti con degli attori di quella portata lì, anche una pausa, una battuta detta in un modo, la mano che gesticola, fa la differenza. Quindi per me è veramente una fonte di soddisfazione, professionale, ma soprattutto cerco di imparare più che posso. Scusate se ho aperto questa parentesi lunga, ma ci tenevo tanto. Bene. Sei qua con noi? Sì. Devo mettermi la giacca? No! È un attimo. Vedo che è proprio... si è rilassato, è a suo agio. Andiamo subito con Occhi Neri e poi ci sarà l'appuntamento con il video del giorno insieme all'edizione musicale Galletti Boston e poi ci ritroviamo ancora piacevolmente insieme con Matteo Bensi. Signori, Occhi Neri! Eccoci! Bene, bene, bene! Torniamo a Giro di Tacco, Matteo Bensi! È lui o non è lui? Certo che è lui! Allora, dunque aspetta e torniamo... Guarda che spettacolo! Allora, ciao Claudio, un salutone a te e al bravissimo Matteo Bensi, grande artista e splendida persona, è proprio vero. Un forte abbraccio, a presto Daniele di Bertipaglia, Daniele Spolone. Ciao Dani! Ciao Dani! Ciao! Allora, i colleghi della radio che mi hanno girato il messaggio, un grande saluto da Graziano, a te Claudio e il grande Matteo. Ci siamo conosciuti proprio al Gran Galato. Vedi che te l'ho detto che è un'occasione bellissima quella lì. Allora, ciao carissimo Claudio Prospero, un abbraccio a te e al tuo spettacolare, unico Matteo Bensi, bellissimo. Maria Consuelo di Gemona, il friù. Maria è una ragazza che ci vede bene. Ciao! Assolutamente sì! Ma che belle! Hai visto le foto? Il nostro Silvano, il nostro Silvano di Aviano che fa... Ah Silvano! Grande! Ciao Silvano! Che clicca, buongiorno... Ma leggi, leggi pure, vai! Buongiorno, grande Claudio e il grande e bravo ospite Matteo Bensi. Un abbraccio a entrambi. Qualche foto così, Silvano Furlanetto. Grazie, grazie Silvano. Bene. Allora, Matteo, ci sono degli appuntamenti che hai il piacere di ricordare. Vero, mevi accennato poco fa con i legnanesi. Assolutamente. Cosa sta bollendo in pene? Intanto faccio vedere il bianco e il nero, insomma, adesso. Va sempre di me. Allora, io mi astengo da tutto ciò che è politica e calcio. Non saprete mai come la penso perché non voglio... Però, devo dire che, insomma, io non dico niente. No, va bene, no, forse... No, no, beh, di politica non se ne parla. Politica e calcio, guai. Il calcio, invece, va bene, il mio pubblico ormai sono... No, io sono... Perdono, mi è trentasei anni che faccio radio, trentasei anni che, insomma, ho sempre portato la mia Juve e va bene. E va bene, ma ci mancherebbe altro. E ce l'hai nel cuore. E ce l'hai nel cuore, ragazzi. E non se può fare da bene. Va bene, detto ciò... Io, per dire, io ho nel cuore i cappelletti, i tortellini in brodo. Ah. E io sono 15 anni che quando... Morto! Ma sì, ma è vero. Ma non la Juve, no? No. Io sono... Ah, occhio! Mezzo in... No, no, no. Non farmi dire. Non farmi dire ciò che... Non farmi dire. Io, comunque, non lo voglio dire. Io la penso anche... Insomma, ho diverse sintetie, ho diverse... Comunque mi hai messo in difficoltà, eh? Brutto delinquenzaccio. Allora, volevo dire... Ah, no. Con i legnanesi ci sono... Ci sono due cose fondamentali. Bene. No, allora. Intanto quest'estate noi faremo ancora degli spettacoli. Ok. E a breve, ovviamente, usciranno le date. Però io ne ho... Ho due cose importanti a ricordarvi. Sono due viaggi che organizziamo insieme a loro. Per la prima volta un'orchestra da ballo. E i legnanesi insieme. L'anno scorso abbiamo fatto la crociera nel Mediterraneo. Ok. È andata benissimo. Tant'è vero che quest'anno vogliamo raddoppiare. Faremo dal 10 al 17 di giugno il villaggio. E dal 26 settembre al 3 di ottobre la crociera. Quindi, ma proprio su richiesta dei nostri fans. Vi dico proprio la verità. Ah, ok. Il villaggio è quello che vorrei, mi preme, pubblicizzare di più. Perché è quello più a ridosso. Sarà dal 10 al 17 giugno. Ragazzi... Tre mesi. Esatto. Hanno già iniziato a chiamare in tantissimi e ci fa enormemente piacere. Proprio per questo vi consiglio di, per coloro che fossero interessati, passare una vacanza con noi. Noi saremo all'Isola d'Elba, il TH Ortano Mare. Prima di tutto è un villaggio abbastanza comodo come distanze. Nel senso che non serve prendere aereo, non serve... È già tutto compreso nel prezzo. In all inclusive. E soprattutto è... La bellezza di quel villaggio lì è la pochissima distanza col mare. Praticamente è attaccato. Ok. Cioè tu fai due passi avanti e sei in acqua. E sei già in acqua. Due passi in acqua. La cosa fondamentale sono gli spettacoli. Noi faremo, loro avranno la possibilità di vedere, ovviamente, tre spettacoli nostri, di cui due da ballo, con anche ovviamente l'intervento dei legnanesi, ma soprattutto l'ultimo sarà un canterie di proprio... Il titolo, no, dello spettacolo che abbiamo, che portiamo in giro. Ok. Ed è un spettacolo... Sarà come essere in un teatro a cielo aperto all'Isola d'Elba. Cioè è una cosa unica. Io vi consiglio. L'esclusiva Viaggi a Cultura Moving Invent, tra l'altro di Verona, o parte sempre dal Veneto. Sempre... Vedi che hai un doppio legno. Sei legato con non ho legato, almeno. Grazie a Dio. E quindi vi dico, io, insomma, su tutti i nostri social, tutte le nostre pagine potrete trovare tutte le informazioni. Mi raccomando, stanno andando le cabine come il pane. Non perdetevi un'occasione del genere. Grazie per avermi... Ma ci mancherebbe. Beh, hai accennato i social, sei presente praticamente... Sì, 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 perché... Hai anche TikTok? No. Ah, ok, ok. TikTok non ce l'ho. Ho visto il video di un personaggio famoso che ha detto il mio... No, però non lo possiamo dire. Volevo farlo anche io. Benvenuti sul mio... No, però... No, allora va... È un po' per uno in difficoltà. Eh, va bene, va bene. Però comunque chi vuole ti trova adesso Facebook, Instagram... Siamo veramente ovunque e devo dire che il social usato nei termini giusti e nella maniera giusta è veramente... È utilissimo. Poi c'è chi ne fa più che un uso, un abuso. E allora... Il troppo va bene o va bene. Purtroppo, sì. Però, o no, purtroppo, purtroppo è così. Sì, sì. Ma poi io non me la prendo neanche. Nel senso, noi abbiamo la fortuna di avere un indice di gradimento alto perché poi chi segue i nostri social sono comunque il nostro pubblico. Certo. Che viene a ballare, quindi arrivano tantissimi complimenti. Quando arriva qualche critica, proprio non ci... Io la osservo, cerco di trarne un beneficio, nel senso se è una cosa che magari se ho sbagliato una serata in un locale magari mi dà anche una mano, hai capito? Se invece ci sono i classici leoni da tastiera io vedo tanti colleghi e se la prendono a me proprio non me ne frega niente. Cioè io il tempo che perdo nel prendermela per una cosa del genere lo passo con la mia bambina, ho già vinto. Però lì è carattere, eh? È carattere. Quanto... Beh, adesso ovvio, ma insomma io te la chiedo quanto sei legato alla tua bambina proprio a una cosa... È una cosa... Ma ti vedo proprio a una cosa... Sei un papà molto dolce, ti vedo nelle foto... Guarda, io cerco di tenerla più fuori dalla vita pubblica possibile però molte volte non ce la fai. E devo dire che... Cioè, astenerla completamente è sbagliato perché fondamentalmente io faccio questo mestiere la mia vita e lei è mia figlia e quindi è normale che se mia moglie vuol farmi una fotografia mentre sono con mia figlia e la mette sui social non posso dire no perché io... Però... Queste sono le belle cose. Sì, è un bene che come mi hanno sempre detto tutti adesso l'ho provato sulla pelle è un bene che se non ce l'hai non lo puoi provare. Non è vero, non sono d'accordo su quando uno dice ah ma se non ce l'hai allora non hai completato quella è una... No. È una... Gravissima... Posso dirlo? Sì. È meglio di no. No, no. È una brutta parola ma inizia con la S e finisce per Zata è una cosa che se viene il Signore te lo manda sei fortunato e se non viene sei fortunato lo stesso che magari ha previsto per te un'altra strada io ti dico noi non abbiamo mai voluto sapere che cos'era ah ok o maschio o femmina anche perché noi abbiamo ancora tutti i nonni che saluto che sono patrimonio dell'umanità i nonni sono il patrimonio dell'umanità però devo dire abbiamo fatto un test no? Nonna ma te non so sui nomi anche il nome non l'abbiamo detto ma te cosa ne dici se fosse maschio se lo chiamassimo Leonardo non so a caso ma noi piacevano Leonardo e mia nonna eh no Leonardo oddio fai come vuoi però se ascolti allora da lì ho detto no non lo saprai mai era arrivata a ricattarmi ma ho detto io sono vecchia se non ci arrivo beh gli ho detto guarda almeno hai un motivo in più in più certo comunque quando mi dai 30 secondi ti racconto una cosa che ti farà ridere molto quando è nata quando è nata come ha fatto la nonna Leonardo cioè poi fate voi sì no vabbè ma fra ascolta è come quelli che dicono no allora io non devo parlare però te lo dico però se non devi parlare è vero o no è così è così ma succederà a casa di tutti ragazzi non mi piace Leonardo ma poi fate voi fate voi ma intanto te la dico Leonardo mi fa però allora ti dico ti dico solo questo noi abbiamo nostra ce li ho ancora 10 secondi sì vai nostra figlia si chiama Mirea e lo so anch'io che ho un nome particolare sì ma proprio per quello ci è piaciuto e insomma ma Mirea come è nato Mirea? guarda è nato perché abbiamo guardato un po' di nomi non ci decidevamo mai quello è un po' come quando trovi la persona che ti fulmina non so come dire mia moglie su Mirea è stato quello che ci ha proprio bloccato ma l'hai cercato abbiamo guardato diversi nomi poi ce l'avevamo sentito ha un significato che vuol dire mare libertà bellezza eccetera ma quello neanche a noi è proprio piaciuto Mirea solo che io vengo da una famiglia io vengo da un paesino di montagna signori che ha 7 abitanti quando andiamo su io mia moglie e mia figlia a trovare mia nonna capienza massima 10 quindi anche la mentalità che è quella che mi ha dato la mia passione per il popolare però sai Mirea è la prima che si sente a canzano di Betton allora mia nonna te la faccio brevissima io ho tutti i nonni ma ho la mamma di mio papà ok che è proprio patriarcale cioè lei la nonnarina è è è è il perno della famiglia allora mi dice quando nasce anche abbastanza offesa perché non quindi immaginate non ha saputo né nome né sesso allora quando nasce mi chiami qualsiasi orario 4 e 29 di notte nasce mia figlia 4 e 35 chiamo mia nonna rina ha fatto due squilli mia nonna è del 36 due squilli pronto come me e te adesso ciao nonna è nata oh amore cos'è è una femmina oh una femmina e allora è tutta contenta come l'hai chiamata e io Mirea non sento più niente pausa la risposta la risposta di mia nonna è stata pronto nonna e lei e beh dai basta che stia bene non è possibile insomma ha fatto la prima settimana con un foglietto in tasca rina come si chiama il tuo nipote sta lì Mirea poi te lo giuro poi l'è entrato e adesso è che no basta che stia bene è vero è vero perché lei non poteva dirmi non mi piace non mi piace nel momento più bello della mia vita allora ha scelto la strada è bella è bella però ti dico una cosa ragazzi a parte gli scherzi io sono legatissimo alla famiglia noi a Natale eravamo in 18 mamma mamma i nonni sono veramente patrimonio di Romani 3 grazie io quando faccio un evento Claudio sai l'importante il giorno dopo del tuo galà quando ho fatto l'evento per il premio Nobel per la pace mi ha portato via tre mesi di lavoro io il giorno dopo spengo il telefono e devo andare là vado a aprire le galline con mia nonna vado nell'orto cerco di poi non sono capace di fare niente però cerco di però insomma io ho bisogno di tornare subito da dove sono partito con un contatto alla natura veramente e la maggior parte della responsabilità è proprio dei nonni cioè i nonni secondo me e noi che abbiamo queste generazioni cioè quando io sarò nonno spero parlerò del telefonino i miei nonni non mi parlano del telefonino mi parlano di quando il telefonino era una cosa impensabile e questa è una fortuna grandissima secondo me ho finito ok grazie cioè il silenzio che vale un discorso te la faccio bene te la faccio bene allora bene more sono contenta come l'hai chiamata l'abbiamo chiamata Mirea un silenzio che vale tutto un discorso e beh dai basta che stia bene comunque un bacio a tutti i nonni d'Italia adesso innamorare allora intanto guarda leggi qua video pronto Giovanni grazie Giovanni poi andremo a chiudere con Vieni Piccina con la Marianna grazie Giovanni torniamo qua allora buon pomeriggio Messie Claude con il bravissimo e simpatico artista Matteo Bensi e con tanti bei sovenire alla luna di Santo Stefano Amare ciao dalla costa azzurra da Teresa ciao Teresa mi ricordo mi ricordo di te mi ricordo bene poi loro vengono da un posto che è meraviglioso è veramente uno dei posti e tu sei stato da Santo Stefano Amare sono stato da Santo Stefano alla luna assolutamente poi parleremo dei prossimi tuoi appuntamenti certo molto volentieri Mirea beh basta che stai e me l'ha detto in dialetto più o meno una cosa però insomma te ti fa un ora tornare insomma alle tue origini dai nonni questa cosa popolare e poi la saggezza popolare io l'amo la saggezza popolare è unica io ho fatto un evento di ritorno l'abbiamo chiamato ritorno alle origini dove ho dato la partenza ho detto voglio farvi vedere da dove vengo io e ho fatto un concerto dove ho invitato tutti e ho invitato anche c'erano diverse personalità avevamo due senatori della Repubblica che sono venuti a Calenzano un paese di sette anime dieci capienza massima c'erano 600 persone gente dall'Umbria e devo dire è stato un evento incredibile pensa lasciavano le macchine fuori poi entravano in tutto il paese c'erano le foto esposte tutto il mio paese si è adoperato per questa bella io ho messo gli inviti dalla seconda fila indietro la prima fila era riservata agli ultimi 5-6 anziani del paese che mi hanno cresciuto vi dico ragazzi io ho la fortuna di fare un mestiere bellissimo calcare tanti palchi importanti salire sul palco costruito con un carro coperto nel mio paese vedere queste 4-5 persone che mi hanno levato vedere che hanno visto un palco così è stata una delle soddisfazioni più belle del mondo io sono legatissimo a queste cose e ti fa onora allora il tempo corre via veloce abbiamo preparato questo pezzo tu al mio gran galà dell'orchestra dello scorso ottobre hai scelto un brano tu e il piano è uno tra i tanti grandi successi di Baglioni solo vuoi spendere due parole e poi ci vedremo il video guarda io sono innamorato di questa canzone che tra l'altro è difficilissima se dovessi tornare indietro non lo so se la rifare però devo dire che non l'ho mai fatta siccome non ero neanche mai stato al tuo gala ho proprio colto l'occasione per presentare quella sera lì la mia versione di un brano che secondo me è un capolavoro della musica italiana insomma io sono poi sono un fan di Baglioni ok per tanto e quindi sì sì Baglioni io ce l'ho nel cuore perché per me a livello di melodia testo insomma è la storia della musica italiana certo e questo è un brano però che si sente un po' meno e quindi è per quello non è forse tra i più conosciuti tra i più sì è proprio per quello che l'ho scelto quindi insomma quella sera mi hai fatto un bel regalo anzi tu a concedermi di poterlo fare ma ci mancherebbe e adesso allora ce lo vediamo ancora una volta ben volentieri direttamente dal mio gran galà dell'orchestra dello scorso ottobre dal teatro da ponte di Bassano del Grappa Matteo Benzi solo ecco bravo Matteo una bella bella interpretazione una bella atmosfera devo dire veramente incredibile hai creato una cosa che poi da quando arriviamo quando andiamo via la cura la cena il dopo cena il servizio il microfono il service tutto c'è tutto veramente ma si vede che insomma quando lavori con dei professionisti te ne accorgi subito io lo dico sempre ai miei amici artisti non sono le classiche ospitate insomma l'artista è protagonista prima di tutto la location perché come dicevo prima quando entri in un teatro cambia proprio la storia insomma e quello è molto bello e poi insomma ti ripeto quando arrivi ti senti portato così insomma noi l'artista in un evento come il tuo deve pensare a cantare e basta e questo è importante per noi e grazie per aver raccolto l'invito grazie a te hai segnato il 12 di 8 per me sarai appena tornato dalla lo ho segnato sicuro ma tanto il 12 verso le 3 del pomeriggio mi chiami così è per sapere dove sei sicuro 100% ma io ti aspetto volentieri io gli voglio troppo bene è vero dove sei come la nonna beh basta che la staga bene basta che la staga bene sì sì no poi si è abituata allora ricordi invece dove sarai ecco dove sarai nei prossimi giorni guarda io voglio ricordare principalmente intanto gli appuntamenti di venerdì e di sabato venerdì saremo a Spilamberto di Modena ok in una polisportiva meravigliosa da due ragazzi fantastici quindi vi consiglio veramente tutti quanti venire e sabato 18 saremo alla sala polivalente a Bettola in provincia di Piacenza che è a un quarto d'ora dal mio paese gioco in casa gioco in casa gioco in casa e quindi quello sicuramente poi le altre adesso ok va bene poi se ti seguo che te le vorrei dire ma è la costante del nostro settore ma anche perché ti spiego i social hanno colpa anche di quello perché tu te la cavi signori su tutti i nostri social troverete tutte le informazioni e tu te la cavi adesso adesso se volessi ricordare i prossimi devo aprire il telefonino ma non voglio già sono in maglietta mi fai capire il telefono se vuoi aprire non ci sono problemi dai dai fammi dai ecco perché mi sembra giusto essere rispettoso e la mia figlia e la figlia ovviamente giustamente la foto la foto di social intanto ricorda ci tieni in modo particolare allora a giugno vero? assolutamente dal 10 al 17 giugno in villaggio a Ortano Mare all'isola d'Elba trattamento all inclusive vale a dire mangiare bere tutto quello che volete perché molte volte quando si dice trattamento all inclusive poi arrivi là e dici come le crociere buongiorno io l'ho l'inclusive no però se vuole quello deve pagare a parte se vuole quello è così eh invece qui non è così infatti abbiamo preferito avere un prezzo comunque credo popolare d'intorno ai 786 euro tutto compreso ma tutto vuol dire tutto cioè tu alle 4 ore del pomeriggio vuoi andare al bar della piscina a prendere un cocktail perché ti gira di prenderlo lo prendi ed è compreso a cena ovviamente tutto compreso e gli spettacoli in esclusiva in esclusiva ok non è aperto a tutti è aperto esclusivamente a chi viene con noi quindi sicuramente insomma il trattamento che cerchiamo di dare è quello più superiore possibile e poi avete la possibilità di stare con noi io trovo che quella sia la cosa più importante nei viaggi organizzati perché tu in un locale da ballo non hai il tempo di poter stare con le persone come lo resto ok qui invece la cosa è completamente diversa siamo lì una settimana H24 certo assolutamente bene allora nei social allora seguite c'è questa bella opportunità dal 17 giugno nella bella isola d'Elba nell'isola d'Elba Ortano Mare credetemi tra l'altro non è una spiaggia aperta e fai conto è un'insenatura ok e quindi è come se fosse la tua cioè tu arrivi e quella parte lì di mare è a tua disposizione del villaggio quindi perché poi tutto attorno hai le rocce non ci arrivi è bellissimo è veramente bellissimo e poi non perché sono a dieta si mangia da Dio ragazzi mamma mia che sta bene nel frattempo si è aperto anche il telefonino come dice Franco Bagutti quando c'era la carta non si spegneva mai c'era giù perché c'erano due ore per aprire è vero grande Franco quando c'era la carta non si spegneva mai ma scherzi venerdì Spilamberto sabato 18 la rosa revolution quindi la sala polivalente di Betto la sabato 25 vi do quelli più l'aurora di Collegno a Torino poi il 29 saremo al Piteco a Godo di Russia a Ravenna quello è uno dei locali più storici d'Italia ragazzi mi fa un piacere enorme tornare e poi vabbè io dovremmo andare ad aprile insomma però diciamo che le altre le seguiranno sì le altre poi le seguiranno direttamente dai soci bene guarda il 28 aprile però ve lo segnalo il 28 aprile ho la fortuna sai che ogni tanto come ti dicevo durante l'anno cerco di fare qualche colpo extra noi faremo un concerto al Teatro Municipale di Piacenza che è il Teatro dell'Opera di Piacenza si chiama Gran Galamici del Cuore perché l'organizzazione darà in beneficenza per l'acquisto dei defibrillatori parte del ricavato e noi saremo l'orchestra base che si esibirà ci saranno alcuni fra i comici e i cantanti più importanti di questo momento per esempio ci sarà noi accompagneremo Marco Rancati che è adesso ha per esempio una trasmissione a The Voice Senior in Rai accompagneremo questa ragazza che si chiama Nicole Magoli che è una turnista mondiale ci sarà Andrea Pucci il mago Forrest Paolo Cevoli ci sarà insomma è un evento molto importante anche lì per me è una grande soddisfazione quindi lo voglio dire perché io condivido con il nostro pubblico sempre queste cose qua non perché voglio guarda che sono guarda che faccio anche quello quello sicuramente ma perché comunque io parto da qui voglio sempre io avrò sempre piacere di cantare una beghina o suonare un waltzer e quindi se ogni tanto mettiamo fuori il naso è perché comunque c'è stata fino ad oggi della gente nel nostro settore che ci ha supportato leggere questi messaggi qua è la più grossa soddisfazione del mondo veramente credetemi è per quello che ci tengo a venire anche di persona perché da casa non è la stessa ovvio 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 diciamo che in certi casi fortunatamente la tecnologia ci dà una mano ti dà una mano però avere l'ospite in presenza come oggi è un'altra cosa è un'altra cosa ascolta siamo già fuori tempi fuori orario tu devi scappare tu dai la colpa a me ma chi se ne prende ma dai la colpa a te progetti prossimi imminenti c'è qualcosa in vista per questo 2023 adesso per l'estate assolutamente sarà un tour importante tra l'altro abbiamo avuto un cambio in formazione è entrato un ragazzo nuovo giovane un cantautore piacentino si chiama Alessandro Colpani un chitarrista suona la chitarra e canta ed è ha ringiovanito il gruppo abbiamo una parte insomma abbiamo quest'estate vedrete un'orchestra Matteo Bensi sempre Matteo Bensi nel senso che io non cercherò di non snaturalizzarmi mai ma abbiamo un paio di sorprese per l'estate che vorrei riservare per quest'estate perché ti dico fondamentalmente i due mesi estivi sono quelli dove poi prepari tutto l'anno e quindi ne vedrete delle belle poi lo sai che noi non siamo tanto centrati quindi mi scuso per la maglietta veramente ma vorrei farvi provare quello che abbiamo sotto pelle in questo momento speriamo anche di averti nel Veneto quest'estate ma saremo tantissimo in Veneto veniamo dal Tivole anche la tradizionale festa di Tivole storica mamma mia abbiamo diverse diverse realtà in Veneto un motivo per passare una bella serata ragazzi insieme con Matteo Bensi alla grande allora ci salutiamo con Vieni Piccina grazie a Giovanni perché è riuscito grande gioco grande gioco grande gioco titolo dell'ultimo disco qui è la prima volta che l'abbiamo presentata insieme a Mariana Lanteri ho avuto il piacere la fortuna di cantare con lei due anni con l'orchestra Baguti l'ho ritrovata in questo brano popolare guarda caso il titolo è un waltzer lento popolare a proposito di collaborazioni abbiamo in radio non credo ci sia il video hai fatto un brano anche con Federica Cocco sì assolutamente ecco perché domani avremo Federica Cocco ospite non ci si fa mancare nulla sarà in collegamento ma sarà Federica Cocco ospite salutatemela a tutti voi bene è stato un piacere averti qua piacere mio come sempre sembriamo due politici quando si dà la stretta di mano che fanno un sorriso grande grazie a tutti ragazzi è un piacere e ritorno a dire è una fortuna avere una realtà come questa in un settore come il nostro lo sosterrò sempre ti porto i saluti anche dal nostro direttore Alex oggi non c'è grazie grande Alex ti saluta ti saluta caramente è stato un grande piacere averti qua piacere mio buona vita buona vita buona musica grazie ragazzi mi raccomando sempre incollati a questa radio a questa televisione a questa realtà adesso se dovessi telefonare a a nonna Rina per dirgli dove sei stato mia nonna dopo aver visto la puntata mi direbbe sei stato bravo perché hai tagliato la barba ma mettiti la giacca ma mettiti la giacca e con Giovanni a gentile richiesta domani ritorno insieme con voi come dicevamo avremo ospite in collegamento in questo caso Federica Cocco ci salutiamo con Matteo Benzi e Mariana Lanteri insomma avete fatto sempre tante belle collaborazioni a te piace molto sì io ritengo Mariana una delle più importanti voci e una delle cantanti più brave del nostro settore per cui senza offendere nessuno noi abbiamo delle ragazze che cantano benissimo Francesca Mazzucato un'altra delle più belle voci Federica Cocco un'altra delle più belle voci e con le e però Mariana ha questa particolarità che è amante del popolare come me e quindi ci siamo proprio in questo brano ci siamo incastrati secondo me molto bene una cosa strana avete dato il titolo hai dato il titolo perché è un valserletto non capita spesso che il titolo di un album un valserletto di solito prendi la cumbia che tira e tu hai scelto sei andato un po' è diverso siccome non Arina basta che astaga io prendo prendo molto secondo me allora per due motivi principali valserlento come titolo un cd è strano il primo motivo il primo motivo è perché io non voglio mollare la mia linea certo nonostante nel settore del ballo tutto sta cambiando se tu vieni a sentire una serata all'orchestra Matteo Bensi sente una serata che spazia noi abbiamo Chiara tra l'altro saluto tutti i ragazzi dell'orchestra assolutamente e in particolar modo Chiara Boscaro la mia cantante che è Veneta e anche lei guarda caso anche lì il Veneto il Veneto proprio torna vedi sei legato torna è una ragazza veramente devo dire fantastica e dicevo lei si occupa di tutto quello che non faccio io quindi tutta la parte moderna tutta la parte un po' più fresca del repertorio che nella nostra serata non manca assolutamente però io devo dare al pubblico che ci segue anche nelle trasmissioni come la tua una parte di Matteo Bensi e se devo dare il titolo del disco il titolo del disco deve essere quello che rappresenta Matteo Bensi quello è un album tra l'altro prodotto dall'Abi Record di Andrea Baguti è un album che spazia in diversi generi ma il titolo è il titolo e io ho dovuto dare un brano popolare primo motivo secondo motivo perché io sono uno che scappa sempre un po' via nel senso che quando vedo che tutto va da una parte dico ma metti che e provo subito ad andare dall'altra quindi questo fa parte anche delle mie scelte insomma quando mi hanno visto cantare all'Accademia di Brera a Milano per il Festival del Cinema di Venezia e un premio Oscar io sono andato là e non ho cantato ho cantato un brano della mia tradizione e ho suonato un waltzer perché cerco di portare alta la bandiera sempre e io ho detto signori io sono qui è un onore grandissimo ma io vengo da là e non sputerò mai nel piatto perché se sono qui è soprattutto grande amore che è un waltzer bolognese che avrà 70 anni con la fisarmonica ti dirò è stato un applauso grandissimo c'è molte volte secondo me guardare avanti ma senza mai dimenticarsi il passato da dove si arriva quello assolutamente bene tutto questo per Vieni Piccina grazie a voi abbiamo proprio sparato i tempi ma ne vareva la pena tu dai la colpa a me assolutamente sì buona vita a tutti ciao ragazzi ciao grazie grazie Matteo grazie a te